cari amici di fano tv ben trovati in questo approfondimento in studio parleremo di uno degli eventi tipici e che ormai fanno parte della tradizione fanese in mala testa a fano e allora diamo il benvenuto al presidente della pandolfaccia fabio frattesi buonasera fabio ben trovato buonasera mariella buonasera a tutti è un piacere essere qui grazie è un piacere anche per noi soprattutto è una soddisfazione perché siamo arrivati all'undicesima edizione di un evento che da un paio d'anni a questa parte ha anche cambiato nome di battesimo si un evento che ha cambiato mille volte sempre in crescendo quindi prima di tutto sento di dover ringraziare tutti i soci della pandolfaccia sono arrivati 150 quest'anno che in questi dieci anni hanno accompagnato la crescita del progetto siamo partiti in pineta ponte metauro con il paio delle contrade da lì dopo qualche anno ci siamo trasferiti alla rocca malatestiana e ormai da un paio d'anni che utilizziamo proprio il centro storico quindi la piazza e le zone limitrofe quindi e dall'anno scorso anno come dicevamo siamo trasformati il nome e non è più il paio delle contrade ma è il malatestafano che era il nome che accompagnava nel 95 la manifestazione quindi abbiamo ripreso questo nome storico anche perché era perché quello che noi vogliamo fare cioè vogliamo rappresentare e raccontare pezzi di storia medievale alla città quindi il malatestafano è un evento che racconta e interpreta quello che nei libri è scritto allora abbiamo parlato dei luoghi il centro storico in generale ma in particolare quali saranno i luoghi protagonisti i luoghi protagonisti saranno quest'anno sarà come lo scorso anno il pincio il pincio sarà arricchito da un'area spettacoli sarà arricchito comunque da tutti gli accampamenti quindi ci saranno tutto il nostro gruppo armati ci sarà un gruppo armati che arriva da da romagna ci sarà la possibilità di vederle armi di assedio la possibilità di battere il conio quindi ci saranno tante e soprattutto il gruppo degli arcieri di Fanno adesso mi stavo dimenticando ma invece sono importanti anche perché l'aggancio qui domenica faranno un campionato di arcieri da tutta Italia domenica mattina che all'interno del nostro programma verranno più di 200 arcieri da tutta Italia a fare un campionato che quindi va ad arricchire la proposta di programma del malatestafano quindi il pincio vedrà tutto questo poi l'altro luogo è via Arco d'Augusto e il corso Matteotti che vedrà tutti il mercato antico quindi tutta l'oggettistica medievale, gli artigiani e così via per arrivare a Piazza 20 Settembre che è proprio l'area spettacoli principale non è l'unica area spettacoli perché comunque ce ne sono altre e in più quest'anno dalle 17 alle 21 c'è anche tutto il discorso abbiamo fatto una bella collaborazione con la scuola d'arte dove praticamente 30 ragazzi collaborano con noi con l'alternanza scuola lavoro e faranno praticamente i ciceroni quindi saranno sparpagliati per la città e daranno delle letture racconteranno aneddoti medievali in abito storico quindi dalle 17 alle 21 sparsi Porta Maggiore, Arco d'Augusto, Corte Malatestiana e Chiesi San Francesco lo saranno lì pronti ad accogliere turisti e fanesi per raccontare aneddoti e quello che rappresenta il luogo in più dentro la Corte Malatestiana ci saranno anche dei banchi di mestieri che loro andranno a raccontare e spiegare quindi questa è un po' la scatola che raccoglie tutto il progetto Allora, progetto che si sviluppa in tre giornate 5, 6, 7 luglio direi di vedere insieme a te il programma Il programma è venerdì, l'evento clou, tutte le serate iniziamo alle ore 19 quindi alle 19 in poi parte tutta l'animazione con tutti gli artisti e così via il momento clou è alle ore 21 dove il personaggio principale che noi rivochiamo che è Pandolfo Terzo arriverà in barca come mai un po' di anni però quest'anno l'abbiamo ancora aumentato a livello di scenografie e cose varie quindi Pandolfo Terzo arriverà alla Darsena in barca, scenderà e verrà accolto da lì ci sposteremo in piazza dove ci saranno tutti gli spettacoli Sabato, sempre dalle ore 19 partiamo con tutti gli accampamenti che dicevo prima accampamenti in mercato storico, tutto quello che abbiamo previsto Piazza 20 Settembre con tutti gli spettacoli ci saranno tantissimi artisti, abbiamo chiamato quest'anno a far festa con noi quindi non sarà soltanto Piazza 20 Settembre ma non sarà un'animazione diffusa dimenticavo, in Piazza 20 Settembre ci saranno anche tanti giochi per bambini in legno in stile medievale, quindi sarà proprio una festa e il sabato è il momento principale, è quello che noi rievochiamo cioè il matrimonio di Pandolfo Terzo quindi grazie all'aiuto del Centro Studi Malatestiani Centro Internazionale di Studi Malatestiani che dobbiamo ringraziare soprattutto la dottoressa Anna Falcioni che ci aiuta in quello che noi facciamo e ci dà la possibilità di tradurre quello che praticamente poi la storia ha scritto ci dà la possibilità di raccontarla quindi noi andiamo a rievocare davanti al Sagrato del Duomo le nozze del matrimonio di Pandolfo Terzo e questo sarà alle ore 20 e 30 da lì in poi ci spostiamo in Piazza 20 Settembre in Piazza 20 Settembre sarà servito un banchetto quindi abbiamo dato la possibilità alle persone che vogliono di far parte del nostro gruppo e vivere proprio un vero banchetto medievale quindi grazie a un ristorante della città che è il Muma che ci ha fatto un menù a tema ecco perché tra le novità di quest'anno possiamo cogliere l'occasione ecco proprio adesso per dirlo non ci saranno le taverne ma c'è stata una sorta di collaborazione di sinergia con i ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa del nostro territorio sì, non perché vogliamo allora, lo scorso anno avevamo fatto la taverna in Piazza Andrea Costa non perché Piazza Andrea Costa quest'anno purtroppo non è utilizzabile ma soprattutto perché già l'anno scorso vedevamo gli esercenti che erano contenti della nostra manifestazione e quindi praticamente da lì è nata una collaborazione quindi vi invitiamo ad andare nel nostro sito ci sono 12 tra bar e ristoranti hanno tutte le proposte a tema quindi ognuno ha la sua particolarità logicamente come gli artisti visiteranno e alliteranno la serata all'interno dei locali quindi vi invitiamo a dare una bella sbirciata alla nostra pagina social dove ci sono tutti i minuti, tutti i locali convenzionati e i locali sono riconoscibili perché hanno il nostro logo prima di entrare quindi nel dehors davanti avranno un bel cartonato che identifica l'attività convenzionata con una proposta a tema Poi la giornata del sabato La giornata del sabato è quella che cominciavamo prima il matrimonio quindi soprattutto questo matrimonio il banchetto centrale da lì si sfocia praticamente con tutti i festeggiamenti in onore di Pandolfo Terzo quindi sarà un momento di festa mentre ci sarà il banchetto in onore ci saranno degli spettacoli quindi sarà una bella serata e nel frattempo comunque anche il Pincio e tutte le zone che dicevamo prima continueranno a vivere con animazione, artisti, giocoglieri quindi non sarà soltanto un luogo cioè la volontà non è quella di avere la piazza che respiri quell'aria medievale ma che sia la città che respiri ancora ne abbiamo una porzione ma perché la festa ha possibilità di crescere quindi ancora abbiamo concentrato comunque in quella zona però che comunque è vasta da animare è vasta da riempire di contenuti quindi noi siamo contenti di presentare questo progetto poi la domenica la domenica come dicevamo partiamo la mattina con il progetto degli arcieri che si sono agganciati con gli arcieri del Leocorno di Fano che si sono agganciati alla nostra proposta e fanno il loro campionato FITAS sono più di 200 arcieri da tutta Italia come dicevamo prima che parteciperanno quindi alla mattina chi vuole venite all'ombra di Fano Centro loro fanno la gara partendo dal Pincio andando verso la loro camara testiana quindi zone di ombre ci sono e c'è la possibilità di vedere la loro gara poi il pomeriggio sempre alle 19 ripartiamo secondo lo solito canovaccio quindi animazioni al Pincio animazioni lungo il corso mestieri, antichi mestieri visite guidate e la domenica sera faremo il paglio comunque un paglio lo assegneremo e quest'anno il paglio sarà assegnato sempre con una gara di arcieri quindi i arcieri di Fano verranno divisi come lo scorso anno nei quattro castelli di Malatesta quindi Fano contro San Costanzo contro Castelvecchio e contro Mondolfo si sfideranno ognuno di loro prenderà uno di questi castelli di Malatesta e si sfideranno per giudicarsi il paglio per poi concludere con uno spettacolo che conclude alla grande la nostra manifestazione con uno spettacolo teatrale fatto con trampoli, musica, storia lo spettacolo si chiama Mi chiamo Aura ed è uno spettacolo bellissimo perché poi è fatto anche con l'aiuto della pirotecnica chi non sa cos'è viene a vederlo così lo scopre quindi è veramente uno spettacolo una compagnia teatrale Umbra che fa tutto questo con i trampoli l'invito è quello di venire a vedere perché una cosa che a Fano non si è mai vista almeno negli ultimi 20 anni in piazza, poi mi fermo verrà allestita anche una tribuna quindi per le persone che vogliono lo scorso anno c'era il problema dello sedersi allestiremo in piazza anche una piccola tribuna per poter contenere le persone che vogliono vedere gli spettacoli Il mio intervento semplicemente per ricordare che oltre ai gruppi ci sono artisti che provengono da ogni dove quindi un ringraziamento anche a loro Assolutamente sì abbiamo tantissimi gruppi come dicevamo prima partiamo dal gruppo di Fano noi e gli arsieri poi andiamo avanti con i falconieri di Senigallia abbiamo Giullari che arrivano dalla Romagna abbiamo quest'anno un gruppo che si chiama praticamente i Giullari di Davide Rossi che arrivano dall'Umbria quindi abbiamo veramente un movimento di artisti abbiamo cercato che per noi poi nel tempo sono diventati anche amici perché poi comunque sono quelli che troviamo nelle migliori piazze dove andiamo quindi abbiamo scelto tra gli amici e poi faccio un esempio sempre qui vicino c'erano anche lo scorso anno il gruppo dei Circa Teatro d'Urbino che anche loro si muovono sui trampoli facendo gioie facendo animazione lungo il corso e lungo le vie quindi è veramente bello vedere i bambini che rimangono a bocca aperta non mancheranno gli sputafuoco della Pondolfaccia le ragazze che ballano col fuoco non mancheranno gli sbandilatori altra cosa che dimenticavo perché quest'anno le cose che abbiamo messo in cantiere sono veramente tante torneranno gli sbandilatori di Rastat perché noi ogni anno è nato questo legame in cui un anno andiamo noi in Germania un anno vengono loro da noi quindi quest'anno una rappresentanza di sbandilatori di Rastat sarà in quei giorni a Fano quindi in più abbiamo anche questa accoglienza per noi ormai sono diventati amici sono diventati con alcuni loro fratelli, sorelle, buoni insomma quindi è un piacere rincontrarli e per loro è un piacere condividere per noi con noi questa festa quindi siamo felici insomma di mettere insieme tutto questo cantiere allora affrettatevi a visionare nelle pagine social il programma a prendere contatti per prenotare insomma in un luogo o in un altro a vostra discrezione l'abito a tema non è obbligatorio questo lo ricordiamo ogni anno per il pubblico no? esatto per il pubblico praticamente come lo scorso anno c'è la possibilità per chi lo vuole andando nelle pagine social di unirsi al nostro gruppo mettere il vestito e partecipare al banchetto nuziale quindi sulle pagine social poi sfatiamo anche un mito perché ci stanno chiamando in diversi mi raccomando datemi un vestito leggero allora il vestito logicamente è un vestito medievale noi ci teniamo tanto i vestiti che abbiamo penso che per tre ore almeno per noi ormai è un'abitudine poi la battuta è quella che si dice che dove non passa il caldo non passa nemmeno il freddo è una bugia però mi viene da dire che per tre ore poter partecipare a questa cosa da protagonisti mangiando un banchetto e vivere gli spettacoli non in prima fila ma proprio proprio da 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 personaggi principali secondo me è una cosa molto bella si può fare si può fare Fabio invita tu i nostri amici che ci seguono da casa io dopo 11 anni sono qui ma non come Fabio ma come presidente della Pandolfaccia quindi metto soltanto la faccia perché tutti i miei soci 150 soci vi aspettano per condividere con voi quello che è per noi la gioia e la fatica di un anno quindi condividere l'esperienza medievale e far capire vedere i vostri sorrisi quindi vi aspettiamo ad apprezzare speriamo che apprezzate quello che noi facciamo e vi aspettiamo a Ema la testa Fano grazie allora Fabio Fratesi per essere stato con noi grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti